l'altra cosa il telefono si è rotto ora solamente che il personal locator bacon per eventuali emergenti ormai da una settimana in corso sulla traversata e il sole l'ho visto una volta sola sempre brutto tempo tra pioggia e oggi questo problema di neve non si vede nulla no 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 no